Il terrazzo è la nuova food lounge di Torino Porta Nuova che ha aperto le sue porte alla città e ai viaggiatori col taglio del nastro alla presenza di Alberto Cirio presidente della regione Piemonte e Alberto Baldan amministratore delegato di grandi stazioni retail. Nella terza stazione italiana con un passaggio di 66 milioni di passeggeri ogni anno è stata recuperata un'area di oltre 2000 metri quadrati dedicata all'ospitalità, al food e alla socialità, affacciata sull'atrio storico e sui binari, facilmente accessibile, progettata per conto di grandi stazioni retail. L'offerta è varia e diversificata per incontrare le preferenze di tutti i segmenti di clientela in ogni momento della giornata. Apoteca e Rosso Pomodoro, La Piadineria, McDonald's, Heineken, Beers & Bar, Starbucks, Kono Creperia, Old Wild West, Waikiki Poké e il leggendario Henry's Bar, brand della Chef Express del gruppo Cremonini, simbolo della dolce vita romana, il primo ad aprire fuori dalla capitale. I nuovi locali danno lavoro a 250 persone e l'investimento complessivo è stato di 20 milioni di euro. Secondo Alberto Baldan, amministratore delegato di grandi stazioni retail SPA, il terrazzo dimostra che la stazione continua il suo percorso di cambiamento, per rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori di oggi e di quelli che verranno del quartiere, della città e della regione.